Ecco abbiamo un artista che ci ha concesso gentilmente una sua intervista prima dello spettacolo. Cosa ci canta questa sera? Non lo so. Ah quindi è una sorpresa? Sì, sì, il pubblico come sa, lei ama le sorprese. Si canterà che cosa? Una canzone o due canzoni? Due. Due? Bene, la ringraziamo anche perché sappiamo che gli artisti prima di cantare sono tremendamente antipatici. Non so come trovarti, sì, non so dove cercarti, sì, ma sa con una voce che mi piace, non so come trovarti. Non so come trovarti, sì, ma sa con una voce che mi piace, sì, ma sa con una voce che mi piace, Grazie a tutti. 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 Maglia Marchionni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.